Il nostro viaggio nel sesto capitolo della lettera agli Efesini ci porta a affrontare oggi la prima delle armi che San Paolo ci invita a poter afferrare per poter resistere, per poter vivere, per poter restare in piedi e superare le prove. La sua indicazione iniziale è stare dunque ben fermi per poter affrontare questa battaglia. Ricolleghiamoci un pochino a ciò che abbiamo detto nella volta precedente, ovvero sia, battaglia, quale battaglia? Ricordiamo questa dimensione, è una dimensione analogica della vita. Nessuno è chiamato a fare nessuna guerra, non è questo il punto. È un'analogia dove però prendiamo dal linguaggio bellico lo spunto per capire un po' meglio la nostra sfida, che è la sfida della fede, la sfida di una vita bella, di una vita vissuta nella pienezza. Ecco, dobbiamo ricordare qual è il vero campo di battaglia, la sfida dove si svolge. La nostra lotta, diceva l'introduzione a questa descrizione di questa armatura, non è contro le creature fatte di sangue e di carne, ma contro il male, contro la tenebra di questo mondo. Allora, sappiamo che l'avversario è la menzogna, l'avversario è il nero, la tenebra e le potenze oscure che portano verso la distruzione dell'uomo, ma il suo campo di battaglia, come abbiamo detto l'altra volta, è il cuore. Finché noi combattiamo la battaglia fuori di noi, non stiamo vincendo proprio niente, sicuramente stiamo perdendo qualcosa. Quando la battaglia la portiamo nel nostro cuore, allora possiamo vincere. Quando le sfide della nostra vita sono portate a livello del nostro atteggiamento, del cambiamento del nostro essere, del riconoscimento che c'è una via d'uscita, che c'è un atteggiamento migliore da prendere, c'è una conversione in cui entrare, una trasformazione da cui lasciarsi inondare, obbedendo alla provvidenza, ecco, allora noi possiamo veramente sperare di portare avanti la battaglia giusta. E allora, ciò che noi dobbiamo un pochino identificare è che questo tipo di sfida richiede atteggiamenti molto più che armi concrete. Infatti le armi che andiamo adesso a descrivere sono posture interiori, sono posizioni della propria anima e non oggetti concreti. È chiaro che nella fede esistono anche armi concrete esterne a noi, la preghiera, la liturgia, la comunione fraterna, l'obbedienza alla vita ecclesiale, ma noi in questo testo abbiamo un richiamo a questa battaglia nascosta, segreta, che nessuno può imporre a chi che sia di portare avanti, ma chiunque la impugni vive molto meglio e sta molto meglio. Allora, la prima indicazione che noi troviamo è state dunque ben fermi nella traduzione che per ora abbiamo a disposizione. Di fatto, stare dunque ben fermi può indicare una condizione statica, beh, lo dice la parola stessa. Il problema è che è un auristo imperativo che vuole indicare un atteggiamento che però rimanda a una posizione ben precisa. Innanzitutto stare in piedi, lo stare, è una posizione tipicamente vitale. La posizione di chi non è in ginocchio o steso o seduto è la posizione del vivente. Di fatto siamo nel grappolo terminologico della resurrezione. C'è chi è steso, c'è chi è in piedi. E' la posizione liturgica di chi si alza in piedi e proclama, di chi si alza in piedi e confessa la fede. E' comunque una posizione che indica una energia, una vitalità. Ma entrando in questo argomento bellico, guerresco, che è l'analogia che è stata scelta da San Paolo per portare avanti la sua istruzione sulla vita della fede nel campo di battaglia interiore, obiettivamente dobbiamo chiederci ma chi è che sta in piedi, chi è che deve stare? Di chi è l'atteggiamento dello stare allerta? Indubitabilmente questo termine è riferito alla sentinella, a colui che è pronto al combattimento, a colui che sorveglia. C'è un'attitudine di sorveglianza, di essere pronti, preparati. E infatti tutte le cose che poi noi diremo, le varie armi, le sei armi che poi andremo ad affrontare, sono armi, sono l'attrezzo di un soldato pronto alla battaglia. Allora questa introduzione in realtà vale un po' per tutto. C'è chi è assopito, c'è chi è intontito, c'è chi è narcotizzato e c'è chi sta, sta in piedi, è pronto, è allerta. Nella vita si può essere completamente immemori delle cose importanti, si può essere intontiti, distanti, distaccati dalle cose che veramente contano. E allora c'è un invito a vivere la vita in presa diretta, a vivere la vita al presente indicativo, non stando in un atteggiamento così di rimando, ripeto, di narcosi, di addormentamento. E allora dovremmo scoprire qual è la prima arma che dovremmo impugnare per essere queste sentinelle sane, pronte a vivere, pronte a entrare nelle grazie di ogni giorno. Ecco, l'arma che viene indicata come primaria è descritta, state dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità. Viene indicata una cintura. Nella analogia militare, quello che noi abbiamo è ciò che cinge i fianchi, con i fianchi cinti per mezzo della verità. Questo sarebbe un pochino il senso sintattico della frase. Cosa vuol dire avere i fianchi cinti? E questa strana cintura, perché poi alla fine il suo materiale sarebbe la verità. Allora, dobbiamo un po' capire cosa vuol dire avere una cintura. Dobbiamo un po' entrare antropologicamente nell'idea dell'essere cinti. Cos'è essere cinti? Avere la cintura. Noi capiamo antropologicamente, diciamo così, esistenzialmente, istintivamente la cosa se diciamo il contrario. Cosa vuol dire essere discinti? Discinto è una persona che non è pronto. Si dice che si è messo in libertà. Non è preparato, non può uscire subito, non può mettersi a fare le cose. Sta un po' così. Discinto. Non è presentabile. Cosa indica lo stare con i fianchi cinti? Essere appunto pronti. Ma pronti a cosa? Se noi andiamo un pochino a vedere i testi che nella scrittura citano l'avere la cintura ai fianchi, troveremo, prima di trovare il testo principale che ci darà la chiave di lettura essenziale per capire questa espressione di San Paolo, troveremo, per esempio, la rapidità, essere pronti con i fianchi cinti alla rapidità, per esempio, di un servizio. Cingersi i fianchi vuol dire partire, vuol dire stare in movimento, vuol dire essere pronti alla variazione. Cingersi i fianchi vuol dire poter, come già accennavo prima, servire. Cingersi i fianchi e servire il padrone, dirà il Vangelo di Luca. La preghiera verrà indicata attraverso un atteggiamento che nell'Apocalisse, che viene ricondotta al personaggio vestito di bianco, con i fianchi cinti, con una cintura che è in atteggiamento orante, che è in atteggiamento di relazione con l'Altissimo. In sostanza, i fianchi cinti indicano un atteggiamento di preparazione a un cambiamento, preparazione a un'azione, essere attrezzati per affrontare una sfida, essere attrezzati per affrontare una battaglia. Certamente, la cintura era un attrezzo militare molto importante, alla cintura viene collegata la spada, alla cintura viene collegato anche, per esempio, nella missione dei discepoli il fatto di portare nella cintura denaro o attaccare qualche borsa, qualche ammenicolo da portare con sé, qualche provvigione per le sfide future. Quindi, la cosa a cui siamo invitati è a un atteggiamento di prontezza, con i fianchi cinti. Sono pronto a cosa? Ecco, qui dobbiamo un po' capire, assunta questa intuizione della prontezza come primo elemento di un atteggiamento interiore di crescia, di fede. Ecco, pronti a cosa? Ecco, noi capiamo pienamente, attraverso due testi, fondamentalmente quello che è l'ambiente mentale, che è soggiacente alla fede giudeo-cristiana e alla mentalità paolina e che è un pochino una mentalità diffusa. Quando chi conosce le scritture e conosce un pochino la tradizione ebraica sente fianchi i cinti, sente subito squillare un campanello. Sente squillare il campanello della descrizione della storia delle storie. La storia essenziale nella Bibbia, la storia centrale dell'Antico Testamento è la storia della Pasqua, la storia della liberazione. Nel capitolo dodicesimo del libro dell'Esodo c'è la descrizione di come va celebrata la Pasqua. Pasqua che è un termine ebraico che vuol dire saltare, passare, andare oltre. La Pasqua sarà il passaggio, il passare dalla condizione di schiavitù all'avventura della libertà. La Pasqua sarà il passaggio del Signore, la Pasqua sarà il passaggio dell'angelo che risparmierà le case degli ebrei per mezzo del riconoscere il sangue sugli architravi e sugli stipiti delle porte di un agnello sacrificato. Il rituale di questo agnello sacrificato, che deve essere mangiato nelle case, nelle famiglie, richiede un'attitudine ben precisa. Come dovranno mangiare l'agnello pasquale agli ebrei? Con la lucerna accesa, con i fianchi cinti e il bastone in mano, pronti a partire. Ecco, questo è l'atteggiamento. Questo è il riferimento dei fianchi cinti fondamentale che più che militare in realtà ci appare qui slittare sul livello liturgico. Ovvero sia, con i fianchi cinti nella notte pasquale, si sta perché sta passando il Signore e sta per consegnare un cambiamento. Pasqua vuol dire fondamentalmente cambiamento. Può cambiare solamente chi è pronto a partire. E allora da questo arriviamo al secondo testo, secondo me fondamentale, un po' per capire questa relazione fra un oggetto come una cintura e un concetto come la verità. Nella prima lettera di Pietro, a capitolo primo, al versetto tredicesimo, Pietro parla dell'essere pronti in un senso ancora più specifico, usando la metafora del cingere i fianchi, dice «Appiate i fianchi della vostra mente, i lombi della vostra mente cinti». È interessante. Qui nel testo di San Paolo si parla di avere i fianchi cinti. Beh, certo, una cintura si mette lì. Però il problema è che nell'ebraismo i fianchi non sono una realtà semplicemente qualsiasi, il luogo dove concretamente si mette una cintura, ma i fianchi sono la sede dei sentimenti. I reni, per gli ebrei, non sono un organo secondario. Dio è colui che scruta il cuore e i reni. E' interessante questa concezione per cui dal cuore partono i sentimenti, dai reni partirebbero le intuizioni più profonde, le pulsioni più intime, più proprie. Certamente la realtà della visceralità è qui implicata, ciò che è viscerale, quello che gli inglesi chiamano gut emotions, cioè le emozioni che partono dalla profondità delle viscere. Lì cingersi i fianchi. Lì essere pronti a partire, pronti a cambiare, pronti a variare. La nostra vita non è dettata dalla nostra ragione. La nostra ragione obbedisce alle nostre intuizioni viscerali. non è vero per niente che noi guidiamo la nostra vita secondo comprensioni, secondo una serie di decisioni razionali. La ragione, mi tocca sempre dire, ti dà ragione. Quando vuoi trovare una ragione, la trovi sempre. Si trovano ragioni per fare tutte le cose. Cingersi i fianchi vuol dire iniziare un pochino a toccare quella sede più autentica dell'uomo, lì dove le persone generano la verità dei propri atti. Noi raccontiamo tante storie, ma la realtà è che se vogliamo giustificare un nostro atto troviamo sempre il sistema per farlo. C'è una autenticità che è dischiusa solamente a noi medesimi. E c'è un luogo dove noi non vogliamo cambiare atteggiamento, o ci apriamo a cambiare atteggiamento. Sono le nostre vere mire. Quando diciamo agli altri, ecco capito dove volevi andare a finire. Quando ci si dischiude un'intenzione nascosta, non razionalizzata da parte dell'altro, che magari o ci offende o ci edifica. Quando scopriamo il cuore delle persone, ma intendiamo con questo qualcosa di nascosto, di non visibile subito. I reni che sono organo molto recondito nella corporatura umana. Ecco, lì esiste un cingersi. Perché finché un uomo non cambia a quel livello lì, non cambia. Se io sopra queste scaturiggini interiori appiccico sopra atteggiamenti più o meno razionali, più o meno etici, comunque sono atteggiamenti di breve durata. Finché io non cambio nei miei atteggiamenti viscerali, non cambio. Prima o poi ritorno alle cose che magari ho razionalmente rifiutato. È lì che bisogna partire. È lì che bisogna fare Pasqua. Colleghiamo questo testo appunto al testo di Pietro che ho solamente citato, ma non spiegato. È chiaro che i reni non hanno nessuna sensazione e non hanno nessuna emozione. È chiaro che è un linguaggio antropomorfico per parlare della realtà interiore dello stesso uomo. San Pietro è più preciso e dice, cingendo i fianchi, i lombi della vostra mente. È chiaro che è la mente, il luogo dei sentimenti, delle emozioni viscerali. È chiaro che è il cervello dove si gioca tutto. Il punto è che essere pronti alla verità. Questo è un concetto che mi basterebbe ripeterlo un pochino con calma, più volte, forse per arrivare allo scopo di tutta questa chiacchierata che sto facendo. Essere pronti alla verità. La verità io non la possiedo. Io devo partire per la verità. La verità è sempre esterna a me. Io non sono la verità. Non possiedo la verità. La verità è sempre una sorpresa. È sempre una cosa più grande di me. Io devo fare Pasqua per arrivare alla verità. Io non possiedo l'intuizione completa della realtà. È chiaro che quando parliamo di verità parliamo di un concetto talmente ampio, importante, con tantissimi derivati nella scrittura e nella vita umana. Che qui non possiamo che prendere l'aspetto della verità che è relativo al problema della cintura. È chiaro che qui noi dovremmo non fare questa trasmissione, ma dovremmo farne 80 su questo argomento della verità. Ordonque, a riguardo dell'atteggiamento di chi è sentinella ed è pronto a partire, è pronto, allerta, pronto al combattimento, la verità risulta come la cosa a cui deve essere pronto. Io devo essere pronto all'impatto con la verità. Cosa vuol dire? Essere sempre pronto a un cambiamento, a non adagiarmi su quello che penso e a cambiare ciò che penso in funzione di qualche cosa che finalmente mi fa scoprire una verità più grande. La verità, che è un termine greco che vuol dire svelare una cosa nascosta, è sempre un pochino oltre la mia prima impressione. Le persone non vanno accolte con un atteggiamento di precomprensione. Le persone vanno accolte cinti fianchi con la verità, pronti a cambiare atteggiamento di fronte a loro, pronto a vivere ogni giornata, pronto a partire, pronto a andare oltre ciò che penso. Tutto questo discorso dell'essere cinti fianchi con la verità, alla fine, nel linguaggio del Signore Gesù Cristo si dice tutto con una parola. Metanoeite, convertitevi, andate oltre ciò che pensate. Io non posso vivere felicemente se non sono disposto a lasciarmi a contestare dalla realtà, da Dio, a cambiare idea su tante cose. B, se non sono pronto a riconoscere che la verità è più grande di me, che le cose mi richiedono una crescita, io devo lasciarmi portare alla novità, lasciarmi portare a ciò che non penso. Diceva San Giovanni della Croce, per andare dove non sai devi passare per dove non sai. e tante volte noi dobbiamo saperci lasciar condurre fuori dalle nostre gabbie, fuori dalla nostra guardiola angusta, delle nostre cose sicure. Un atto d'amore richiede un uscire dal proprio atteggiamento di autodifesa. Saper ascoltare un'altra persona vuol dire saper abbandonare le proprie idee preconcette, saper stare pronti a cambiare idea. La vita è novità, la realtà viene dalla variazione, la realtà viene dal cambiamento. Noi creiamo sempre luoghi dove imbullonarci, bloccarci, essere sicuri, non essere messi in difficoltà, ma la fede ci chiede di cambiare idea. La fede ci chiede di cambiare idea tante volte. Io devo essere pronto a cambiare idea, a andare oltre le cose che penso per scoprire il piano di Dio che è più grande di me. Quello è la verità. La verità è l'opera di Dio, che è molto più ampia del mio approccio improvvisato, come mi viene, senza mettermi in discussione. Che cos'è fare il sacerdote? Lo devo capire di nuovo ogni giorno. Che cos'è vivere l'avventura di un matrimonio? Chi è sposato lo deve mettere in discussione, continuamente. Deve continuamente dire lo devo riformulare, devo cingermi fianchi, essere pronto a partire, pronto a cambiare. Le cose cambiano, le situazioni cambiano. Mai una giornata fa come l'abbiamo pensata, mai una situazione è come noi l'abbiamo programmata. Io devo avere i fianchi cinti, devo essere pronto a partire per qualcosa che è diverso da come io me lo aspettavo. Come si vive un lavoro? Con i fianchi cinti, pronti a adeguarsi chi è più bravo, chi sa sempre creare le situazioni che va cercando o chi sa vivere nelle situazioni che trova. Chi sa entrare nelle cose per come sono, chi sa vivere le cose sapendosi adattare, valorizzare la realtà. Questo è un concetto essenzialmente cattolico. Un cattolico è una persona che valorizza i fatti, valorizza le cose, le sofferenze, le tribolazioni. Diventano punto di forza e non realtà su cui uno si può lamentare, aprire il libro infinito delle proprie mormorazioni. Valorizzare, essere pronti a partire. Ecco, mi sorprende un fatto, una cosa che succede che io pensavo no, questa è sbagliata, no, questa non mi doveva succedere. Mi cingo i fianchi io la verità e mi fido di Dio. E parto per il viaggio nuovo, per la variazione, per il cambiamento, per lasciarmi portare lì dove io non pensavo, per vivere nella realtà e non innamorarmi dei miei pensieri. Chi ci separerà dal suo amore, e non innamorarmi dei miei pensieri. E parto per la variazione, per la variazione, per la variazione, per la variazione. ci separerà dall'amore in Cristo Signore.